Contro la buona scuola di Renzi, al termine della settimana di occupazione degli istituti scolastici cittadini, gli studenti stamani hanno dato via ad un corteo colorato e pacifico, che da Colle e Sapone, sede di mortescuole superiore aquilane, ha raggiunto il centro storico dell'Aquila. Allora, questa settimana abbiamo manifestato contro la buona scuola, noi abbiamo continuato senza mai smettere le nostre manifestazioni e ci stiamo facendo sentire. Diverse le motivazioni della protesta, gli studenti chiedono più risorse per la scuola pubblica e di non essere trattati come numeri in un'azienda. Noi ci sentiamo numeri perché loro stanziano milioni, 800 milioni per la scuola privata, e la scuola pubblica chi ci pensa? Noi chiediamo solamente una cosa a Renzi di venire qui all'Aquila e vedere realmente la situazione com'è.